Buongiorno amici e amici. Oggi cominciamo a toccare un argomento di cui si paventava l'attualità e adesso comincia a essere purtroppo attuale. La situazione all'interno degli ospedali, con la nuova ondata Covid, sta facendo registrare casi record anche di occupazione dei letti nelle terapie intensive ma anche, credo, negli stadi precedenti. Se l'epidemia non dovesse arrestare la sua corsa, il rischio, secondo alcuni medici ospedalieri, è quello di una paralisi degli ospedali e qualcuno propone anche cose ulteriori. Comunque non anticipo le domande, ma anzi. Ne parliamo con il professor Dario Manfellotto, presidente nazionale del Padoi, che è la federazione delle associazioni dirigenti ospedali, internisti loro, i dirigenti. Dunque, la persona... Complicata la sigla. Sì, devo dire... La società scientifica dei medici internisti ospedalieri. Lo poteva dire lei direttamente, ma abbiamo rubato il lavoro. Professor Manfellotto, la pressione sugli ospedali sta aumentando. La voce del popolo, quella che gira più frequentemente, vuole, dice, annuncia, allarma su un problema. Quello di dover rinunciare alle terapie, quelle diciamo di routine, chiamiamole così, per privilegiare la cura dei malati di Covid. Nelle prossime settimane arriveremo a livelli di emergenza del marzo del 2020. Qual è la situazione? La situazione è sicuramente complessa e sicuramente in evoluzione, perché tutti quanti parlano di questo gennaio nel quale l'aumento continuerà. E questo ancora adesso, e non credo che ci porterà agli stessi livelli dello scorso anno, anche perché la variante, in questo caso positiva, dei vaccini è qualcosa che ha modificato drasticamente il panorama della malattia e anche la nostra conoscenza, la possibilità di intervenire e di curare. Però il problema è l'estrema numerosità dei pazienti che sono infettati dal virus che creano grossi problemi nell'organizzazione ospedaliera. Vorremmo, professor Manfellotto, farle una serie di domande che sono casistiche, che poi possono accadere e che immagino a casa interessino parecchio. Arriva un paziente positivo in ospedale, qualsiasi ospedale, qual è l'iter che segue? Caso B, arriva un paziente in ospedale per un motivo X, viene fatto di routine il test, si scopre che è positivo. Cosa succede anche in questo caso? Allora, Benedetta, mi piace molto questa esemplificazione perché è la vita di tutti i giorni. Quello che noi vediamo è che viviamo quotidianamente, che le persone spesso non conoscono, non si rendono conto di quale sia la complessità. Allora, prima variabile. Arriva un paziente che è positivo e sta male, viene indirizzato al pronto soccorso, viene sua sponte al pronto soccorso, deve essere ricoverato nel reparto Covid se c'è in quell'ospedale, altrimenti trasferito da un'altra parte. Ma può darsi che il paziente abbia la positività e non abbia bisogno del ricovero. Allora, in quel caso si può indirizzare a fare, se ci sono i criteri, la terapia con i monoclonali, e ci sono dei criteri molto rigorosi, si indirizza a fare la terapia con i monoclonali e poi il paziente ritorna a casa. L'altra variabile è quella del, brutto dire variabile o variante in questo momento, l'altra condizione è quella invece del paziente che viene in pronto soccorso per una colica renale, diciamo, no? Una cosa diversa. Non gli scoprono comunque? No, tutti quanti i pazienti che vengono in ospedale vengono tracciati, soprattutto se c'è la possibilità del ricovero, fanno un tampone rapido, eventualmente un molecolare rapido o un molecolare tradizionale, se esce la positività, allora a quel punto, un'altra volta, si crea un problema organizzativo, perché tutti i pazienti del pronto soccorso ovviamente erano vicini a questo signore di cui non si sapeva la positività e quindi devono essere tracciati e anche qui necessità di ricovero oppure non necessità di ricovero e ritorno a casa. L'altro paziente che arriva già positivo va nel percorso positivo e quindi già è tutto isolato. Comunque, insistiamo su questo argomento. Un paziente ricoverato in reparto per un'altra patologia, già ricoverato, risulta positivo uno dei tamponi di controllo che fate con frequenza, evidentemente. Ora, che vengono periodicamente, per lo meno per ceste, ci sarà una regola, no? Cosa succede? Allora, noi li facciamo periodicamente in ospedale, almeno una volta a settimana, ma anche più frequentemente. E se ci sono poi dei casi o dei possibili contatti, li facciamo anche ripetutamente. Quindi il problema si pone. Noi abbiamo 50 pazienti in un reparto, troviamo che c'è un paziente al controllo, due pazienti che sono positivi. A quel punto la riorganizzazione è totale, perché il paziente che era vicino di letto oppure nella stessa stanza, oppure nella stanza accanto, deve essere tracciato. Questo paziente deve essere isolato. Allora, se l'ospedale ha il reparto Covid, lo deve mettere nel repartino Covid o altrimenti lo deve trasferire da un'altra parte, sempre se ci sono le condizioni del ricovero, altrimenti si può rimandare a domicilio. Gli operatori devono essere tutti quanti tracciati, tracciati per 5 giorni col tampone ogni giorno per verificare se insorge la positività oppure se compaiono sintomi. Cioè una riorganizzazione totale che porta in certi casi anche alla riduzione dei posti letto. Perché tu devi isolare i pazienti in una singola stanza, per esempio, per cui da 50 letti arriva una disponibilità di 30. Quindi riduzione dei ricoveri di natura non Covid. Che danneggiano il sistema generale. Stando ai numeri, i pazienti Novax curati in ospedale anche in maniera piuttosto seria sono superiori a quelli che hanno ricevuto il vaccino. Ma siccome comincia ad arrivare di nuovo lo spettro del che facciamo con tutti gli altri malati, perché cominciano a saltare le operazioni non urgenti, cominciano alle diagnosi precoci, non vengono fatte più e quindi tumori, vedremo fra qualche anno i risultati, qualche medico comincia a chiedersi se non sia il caso di in qualche maniera discriminare fra chi ce l'ha approvato a non prendere il Covid con i vaccini e chi invece, pur avendo a disposizione una protezione, non l'ha voluta utilizzare. Quindi questo è un dramma etico, però è anche organizzativo, direi. Noi sappiamo che nelle rianimazioni rapidamente, 3 su 4 i ricoverati in rianimazione sono non vaccinati, negli altri reparti 60% sono non vaccinati, 40% sono vaccinati e sappiamo che se tutti quanti si fossero vaccinati avremmo un decimo dei ricoveri attuali, forse anche meno, queste sono delle stime che sono state fatte. Il dilemma etico, io da medico non posso dire non ti curo perché non sei vaccinato, è una cosa che secondo me non è proponibile anche da parte degli ordini dei medici o delle associazioni. Il paziente deve essere necessariamente assistito se ha bisogno di assistenza. Per come la penso io, credo che, insomma, io non dovrei curare un paziente che ha un cancro del colon se non ha mai fatto la coloscopia perché aveva paura della coloscopia e quindi non ha fatto una diagnosi precoce. Credo che il medico abbia sempre il dovere di curare e curare al meglio. Certo, ti irrita, ti dà fastidio, però non è che puoi dire io non ti curo. Però la collettività paga. Cioè le nostre tasse, che adesso vengono anche aumentate per altri motivi, andranno a coprire delle spese per le cure di persone che non hanno fatto niente per evitarle queste situazioni. Guardi, questo è un concetto, questo dell'etica cosiddetta distributiva in medicina, che è un concetto su cui si discute da decenni ed è sicuramente il quale potremmo discutere fino a stasera e non trovare una soluzione. È un problema, però il medico deve fare il medico. La medicina deve curare anche i casi di autolesionismo. Uno potrebbe dire, scusi, ti sei fatto del male, al resto ti abbandono. Non è possibile, non è pensabile, da ipocrate in poi. Io penso, come lei, che devi curare tutti quelli che puoi, sei in grado di curare. Che questo serve di lezione, però ai reticenti ha la ragione. Scusami, però la collettività deve pensare al singolo come il singolo deve poi pensare alla collettività. Non è che siamo tutti scemi che paghiamo per scelte. La soluzione non è a portata di trasmissione. No, infatti, potremmo discutere per settimane. Fino a mezzogiorno e mezzo. Allora, Giovanni Leoni, vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ha dichiarato che se la pressione ospedaliera salirà oltre il limite di guardia, non è da escludere un altro lockdown. Dice lui, giustamente, come uso comune, io dico segregazione. Le chiedo, è un'ipotesi plausibile? E qual è il limite di guardia da non oltrepassare? Qui fa riferimento il professor Leoni. Sono le ipotesi in ballo. Ovviamente il Comitato Tecnico Scientifico e il Ministero discutono abbondantemente di questo. È chiaro che se a un certo punto la pressione sugli ospedali dovesse essere tale, per la quale gli ospedali non hanno più posto, le ambulanze fanno le file fuori degli ospedali e c'è veramente una situazione di estrema criticità. È chiaro che delle misure di tipo politico e organizzativo vanno prese, ma non credo che spettino a me. Per far fronte all'emergenza, molti ospedali hanno convertito, ce lo diceva il professor Manfellotto Pocanzi, i reparti normali in reparti Covid. Questo significa che molte delle persone che avevano degli interventi programmati, dei ricoveri programmati per altri motivi, devono astenersi dall'entrare in ospedale per favorire questo tipo di pazienti in emergenza. E questo ci è costato nella prima parte della pandemia un ritardo mostruoso nelle cure normali. Questo ritardo è stato recuperato in parte con i mesi buoni, diciamo così, e con le prime vaccinazioni. Adesso ci ritroviamo nuovamente ad accumulare ritardi o se ne uscirà? Perché si parla di questo picco che dovrebbe essere adesso e poi una discesa di contagi. Sì, stiamo perdendo un'altra volta la possibilità di curare questi pazienti non Covid. Nel 2020 avevamo perso, per dire, in medicina interna nei reparti nostri, 600.000 ricoveri rispetto all'anno precedente. Nel 2021 avevamo recuperato quasi tutto. Adesso abbiamo ricominciato un'altra volta a perdere ricoveri perché i letti sono occupati dai pazienti Covid. Già adesso le regioni danno indicazione di privilegiare ricoveri in urgenza, ovviamente, e i pazienti prevalentemente oncologici o molto gravi che non possono essere rimandati. Già questo decurta notevolmente il numero di pazienti che possono essere ricoverati, curati, operati, eccetera. Insomma, uno stato accudente, anche se con le sue falle, però merita il rispetto anche di una cittadinanza che sia coscienziosa. Stiamo rivivendo degli incubi che pensavamo almeno fossero stati superati con i vaccini. Questo non è al momento possibile. Grazie a professor Dario Manfellotto, presidente nazionale del FADOI, la federazione delle associazioni dirigenti ospedali internisti. Grazie mille. Calle Michele. Grazie a tutti.